Allora, siamo qui con Danilo Perfumo Label Manager di Dinamiche, grazie Danilo, grazie a te Gabriele, per essere con noi sul nostro canale, sui cd classico su youtube, perché guardate qui cosa abbiamo, attenzione, Niccolò Paganini, Complete Edition 40cd, Danilo raccontaci, raccontaci brevemente. La Dinamiche è stata fondata nel 1978, questo possiamo dire che è un sogno che ha 40 anni, etichetta genovese, musicista genovese, tutti quanti genovesi nella casa discografica, abbiamo realizzato l'integrale delle opere oggi disponibili e oggi conosciute di Niccolò Paganini, noi lo speriamo che in un futuro ne vengano fuori delle altre, ma per il momento in questo cofanetto di 40cd c'è tutto quello che Paganini ci ha lasciato e che è disponibile. Ecco, apriamo un attimo Danilo, velocemente, se vuoi, lo possiamo aprire, vediamo come è fatto, che abbiamo delle classiche buste, abbiamo le classiche buste, qui abbiamo il bellissimo libretto con il tuo saggio finale multilingue, cioè una breve introduzione che racconti insomma un po' il progetto, un progetto Danilo che dicevi si svolge in tanti anni diversi con diversi interpreti e con diversi strumenti. Con diversi interpreti e con diversi strumenti per forza di cose perché svolgendosi nell'arco di quasi 40 anni gli interpreti sono cambiati, qualcuno non era più disponibile, insomma i percorsi della vita sono quelli che sono e in questo album, in questo cofanetto, ci sono tante cose importanti, a cominciare dall'integrale dei concerti eseguiti nella loro versione originale, ci sono opere riscoperte, opere che nessuno sapeva che esistessero, opere presentate nella versione originale mentre in circolazione c'erano altre versioni non corrette o ridotte, l'integrale delle opere per chitarra, l'integrale delle opere da camera, insomma un lavoro veramente, uso l'aggettivo straordinario ma credo che sia appropriato. Ecco il primo disco non a caso quello che apre diciamo questo integrale è proprio dedicato, volevo spendere due parole sul concerto numero uno che è stato forse quello che ha dato il via a tutta questa impresa. No, cronologicamente non ha dato il via ma è stato un turning point, si direbbe oggi, molto importante perché ci ha convinto, ci ha resi consapevoli della possibilità che insomma potevamo anche fare dei grossi sforzi e in questo cd ci sono i primi due concerti per violino e orchestra di Paganini nella loro versione originale, tra cui il primo concerto eseguito per la prima volta dopo quasi 200 anni nella sua versione appunto originale, quindi in Mi bemolle maggiore e non in Re maggiore come lo si era eseguito sempre fino a quel momento, credo che sia ancora oggi l'unica edizione in Mi bemolle maggiore, non so se ce ne sono delle altre. Con Massimo IV che utilizza il famoso cannone di Paganini che per l'epoca fu insomma... Fu un evento straordinario perché è uno strumento, intanto che non viene dato con facilità e poi è uno strumento estremamente difficile da maneggiare perché è uno strumento che così ha un po' assunto la psicologia del suo personaggio quindi non ha una risposta lineare tutti i giorni. Ci sono giorni in cui funziona molto bene e ci sono giorni in cui magari funziona meno bene e va comunque scaldato molto prima di suonarlo perché è uno strumento che viene suonato poco perché ha una vernice originale delicatissima e quindi si tende a darlo pochissimo proprio per non rovinare questa vernice originale. Il cofanetto è già disponibile nei migliori negozi anche online, insomma senza stare qui a fare pubblicità penso che sia un bel regalo di Natale per l'appassionato. Ma noi astutissimamente l'abbiamo fatto uscire subito dopo le vacanze perché contavamo, contiamo contiamo proprio su questo. Ovviamente l'uscita doveva uscire un anno fa, poi come sempre in questi grandi progetti non è facile arrivare alla fine però insomma siamo molto contenti. Io ringrazio Danilo Prefumo. Grazie a te Gabriele.